Sindaco ci troviamo qui sul ponte di via Astuti e vediamo quelle che le condizioni in cui versa l'alveo comune Nocerino pieno di vegetazione, di rifiuti che ne riducono anche la sezione idraulica. Siamo praticamente già quasi a Sestembre e fra poco arriverà la stagione invernale con le piogge. Qual è la situazione? Io ho scritto ancora quest'anno, così come abbiamo fatto ogni anno, per svolgere sia rispetto al genio civile che è l'ente della regione, sia rispetto al consorzio di bonifica una sollecitazione che in realtà non dovrebbe essere fatta perché il compito di questi enti sovraordinati, che siano quelli direttamente regionali o il consorzio di bonifica del Sarno, alcuni dei quali si mantengono anche come il consorzio con i contributi da parte dei cittadini, dovrebbe essere quello di intervenire ordinariamente. Invece noi puntualmente ci vediamo costretti a segnalare situazioni di degrado come queste e di pericolosità che affliggono buona parte delle aste torrentizie e degli albi del nostro territorio comunale per chiedere quello che dovrebbe essere normale, cioè la pulizia, la rimozione dei canneti, il ripristino ordinario della sezione idraulica che è intralciata da queste piante, che è aggravata anche dal punto di vista igienico-sanitario, che lo è anche dal punto di vista della sicurezza. Bene, le risposte che noi abbiamo maturato ad oggi sono risposte oggettivamente dilatorie che fanno riferimento al fatto che rientri o meno nelle competenze del consorzio intervenire su questi tratti di fiume o di torrente e lo dicono in maniera davvero sorprendente perché noi vediamo che al di là delle discussioni che vedono un autentico ping pong tra genio civile e consorzio di bonifica su chi debba fare cosa e su piani di classifica, cioè i piani che stabiliscono su quali fiumi debbono intervenire a pulire, che vengono poi smentite da determinazioni della stessa dirigenza regionale, nel frattempo noi vediamo che in altri comuni il consorzio interviene di questi giorni, le potete vedere sui social, le immagini degli interventi che bisogna capire pure se sono stati autorizzati dal genio civile in via preventiva da parte del consorzio di bonifica nel comune di Mercato San Severino, ma nei mesi passati, lo abbiamo visto nei tratti che riguardano il comune di Sarno, il comune di San Marzano, San Valentino e doversi vedere rispondere invece da un commissario o meglio in questo caso non dal commissario ma dalla dirigenza tecnica, ma ovviamente il commissario è consapevole del lavoro che svolgono i suoi dirigenti, si spera, e che bisogna vedere se rientra o meno nelle quote che i contribuenti pagano, hanno poche risorse e poco personale, possono mettersi d'accordo col genio civile ma bisogna vedere cosa fare, nel frattempo noi dobbiamo aspettare settembre tra poco con le piogge a rischio di incalzare in modo davvero pericoloso, oltre all'aspetto igienico che è evidentemente ciò che è, è davvero avvilente. Viene, verrebbe da sollevare, non lo facciamo perché siamo istituzioni pubbliche, ma verrebbe da sollevare una protesta da parte di tutta la cittadinanza che nel frattempo paga i tributi a questi consorzi, a questi enti e di dire, di chiedere loro, di chiedere ma voi cosa fate con i tributi che le comunità pagano, quali sono le attività che svolgete, se ogni volta è un obiettare quel che compete, quel che non compete, quanti soldi possiamo investire, quanti non ne abbiamo, il personale è impegnato, il personale non è impegnato, non ci dovrebbe essere motivo per cui il responsabile di una comunità debba importunare lei o altri emittenti e venire a far vedere lo stato dei luoghi quali sono, sono attività che loro dovrebbero svolgere in ordinario. Nel frattempo abbiamo un commissario che non è neanche un funzionario regionale perché la regione avrebbe potuto avvalersi di un funzionario regionale, probabilmente da non pagare neppure se non con minime integrazioni perché avrebbe già percepito lo stipendio di funzionario regionale, noi abbiamo un commissario di questo ente che è stato ulteriormente prorogato di un anno al quale ci rivolgiamo e facciamo vostro tramite un ulteriore appello oltre quello già scritto perché l'intervento si accelere ed efficace e non si aspettino le piogge del prossimo incombente autunno e Dio non voglia qualche guaio. Anche per questo lei ha segnalato per conoscenza la Procura della Repubblica? Noi abbiamo segnalato per conoscenza la Procura della Repubblica come in passato il Consorzio ha fatto con noi, quindi abbiamo mantenuto la stessa linea che il Consorzio ha adottato nei confronti del Comune di Nocera quando c'è stata la vicenda dell'area industriale. A proposito dell'area industriale ci sono segnalazioni di continui sversamenti in quell'area del Fosso Imperatore che non proverrebbero dall'area industriale in sé perché gli accessi sono stati sbarrati. Infatti questo è un po' un mistero, è una delle attività di verifica e di controllo che sono state promosse anche dal Comune di Nocera con una conferenza di servizi e con attività di accertamento tecnico che si sono svolte in parte ancora in perdurante svolgimento e sono le attività di controllo che si possono fare in una realtà che va detto è comunque intricata dal punto di vista della stratificazione urbana, delle edificazioni residenziali, degli insediamenti industriali, delle percorrenze su quelle zone anche di tratti stradali di competenza provinciale o di altri Comuni quando non anche di sversamenti illeciti occasionali e magari esterni alla residenzialità specifica dei Comuni. Quindi c'è una problematica complicata che non credo sia risolvibile né attraverso un esposto né attraverso un'attività improvvisata ma ci vuole un'attività costante nel tempo e che purtroppo non è semplice da svolgere per la complicazione dei nostri territori. Sindaco, vista che lei segnala questa emergenza, ma se provvedesse proprio lei, il Comune, a fare queste... Lo pensavo io, dovevo indussare uno scafandro e scendere all'interno dell'alveo. A dir la verità, a parte le questioni anche qui economiche e finanziarie che riguardano i singoli Comuni, ma noi abbiamo un tributo che è pagato in maniera specifica da parte dei contribuenti e un ente che è quello regionale, che attraverso il genio civile ha competenze specifiche, finanziamenti specifici per fare questo tipo di attività. Ma per di più c'è un altro elemento in considerazione, se per assurdo il Comune avesse le risorse finanziarie disponibili o da stanziare, all'opera avrebbe bisogno non solo di un personale dedicato e specificamente specializzato per l'appunto, ma dovrebbe avere anche delle autorizzazioni a poter fare interventi di questo tipo, che sono interventi che potrebbero a qualunque titolo, magari non accade, ma potrebbero in linea teorica compromettere la integrità dell'alveo, degli spondali, dei depositi di sedimento, dei contenimenti terranei e quindi sono motivi per cui per questo motivo esistono il genio civile, esiste il consorzio di bonifiche, esistono le autorità che debbono fare questi interventi.